La Compagnia Carabinieri di Augusta ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania nei confronti di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nei comuni di Medilli e Siracusa. L'attività è il risultato del capillare controllo dell'arma dei carabinieri nel territorio di Medilli, dove l'associazione aveva organizzato lo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina.